Partiti! Non brillante germanico, insieme in coda all'interno Signora Velia, è in vantaggio nei confronti di Arabajan, all'interno Sinso Gris, a largo telegrafica, in quinta posizione Rock My Soul, le presupprime anche Skittish Queen, quindi proiettoria Arabajan Sesebi, in coda germanico. Si è ad affrontare la prima piegata con Signora Velia, è in vantaggio con a largo Skittish Queen, a contatto in terza posizione Sinso Gris, che ha a largo telegrafica, con in scia Rock My Soul, quindi Arabajan con all'interno proiettoria Sesebi, in coda germanico. Si è ad affrontare la retta opposta alle tribune con Skittish Queen, che adesso ha rilevato al comando Signora Velia, si è provanzata anche da Rock My Soul, si avvicina anche Sinso Gris, quindi telegrafica, per questi esterni ci prova anche Arabajan ad unirsi ai primi, quando i cavalli vanno al completamento della retta opposta alle tribune, l'ingresso sulla piegata, con Skittish Queen, che si mantiene in vantaggio nei confronti di Rock My Soul richiesto, quindi Signora Velia con a largo Sinso Gris, questi sono i primi quattro, i cavalli vanno al completamento della curva, l'ingresso in dirittura, Sinso Gris lungo l'effettato, in vantaggio accattata all'interno da Rock My Soul, quindi a largo Signora Velia che prova a tornare sui primi, con Rock My Soul che va all'attacco di Skittish Queen, poi Arabajan che prova a finire forte, con Rock My Soul in vantaggio nei confronti di Arabajan che va all'attacco di Rock My Soul, Arabajan va su, Rock My Soul, Rock My Soul che prova a difendersi, Arabajan che attacca sul traguardo, probabilmente Arabajan riesce a stampare Rock My Soul alla terza, Signora Velia.